La regina della pace, durante un'apparizione, disse ai veggenti che la maggior parte delle anime che si salvano dalla dannazione eterna passano attraverso il purgatorio. Ciò significa che esse anelano fortissimamente alla visione di Dio, ma ancora devono purificarsi per questo e se soffrono ancora. Ricordiamo spesso che la nostra vita terrena avrà un termine prima o dopo, quando il Signore disporrà. In virtù della comunione dei Santi abbiamo tutti bisogno di uni degli altri, soprattutto dal punto di vista spirituale. Chi prega ed offre sacrifici per i defunti di vero cuore riceverà da loro molta riconoscenza. Pregare per i defunti è un grande atto d'amore.